Buonasera, prima pagina della cronaca ed in particolare un preoccupante episodio avvenuto nel cuore della notte a Sanremo. Un uomo di 42 anni è stato infatti aggredito all'uscita di un locale da un altro uomo che gli ha sparato ferendolo ad un ginocchio. Particolari in un servizio. Ennesimo atto di violenza a Sanremo. Questa notte intorno alle 4 in quel bar che vedete in fondo alle mie spalle un uomo è stato ferito con un'arma da fuoco. Si tratta di Melchiorre Mistretta, 42 anni. L'uomo è stato gambizzato all'interno del bar in cui entro, ubicato proprio a Rondogaribaglia a Sanremo. Non si conosce ancora il movente. Sono i carabinieri di Sanremo ad indagare sulla sparatoria. I militari coordinati dal capitano Paolo de Alescandris dovranno chiarire il fatto di cronaca. Si presume legato ad una lite avvenuta poco prima in un altro locale notturno di via San Francesco, sempre nella città matuziana. Mistretta è stato raggiunto da un solo proiettile ad una gamba. Sono sei, però, in tutto i colpi sparati dall'aggressore. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, sembra che fossero passate da poco le 4 quando l'uomo, insieme ad un'altra persona, si sia seduta nel dehors del bar per consumare un caffè caldo quando si è avvicinato un altro uomo a bordo di un'auto. E Mistretta, che ha subito intuito che lo stesse cercando, si è rifugiato all'interno dell'esercizio per ripararsi. L'aggressore con la pistola in pugno lo ha raggiunto. Ha urlato sparando sei colpi nella sua direzione. Uno di questi lo ha raggiunto ad un arto. Prima il proiettile ha sfiorato la gamba destra e poi si è conficcato in quella sinistra. Il 42enne è stato portato in ospedale dove è tuttora ricoverato. Le indagini dei carabinieri sono in corso per prendere il colpevole dell'aggressione. Alcuni dei proiettili esplosi hanno colpito una guida del telefono ed uno dei tavoli. La vettura con a bordo il malvivente che ha sparato si è poi allontanata in direzione di via Garibaldi dove vicino c'è un distributore di sigarette con una telecamera di videosorveglianza. Le immagini che i carabinieri hanno sequestrato potrebbero condurre gli investigatori all'autore della sparatoria. Verrà estradato domani alle 12 a 20 miglia dalla Francia attraverso il valico di Ponte San Luigi il serial killer Bartolomeo Gagliano. Il pericoloso criminale era stato arrestato dalla gendarmeria a Mentone dopo che era fuggito dal caccio di Genova grazie ad un permesso premio che gli aveva consentito di uscire dal penitenziario attraverso la porta principale. La sua fuga avvenuta a dicembre per fortuna era durata solo pochi giorni. Nel weekend pasquale una pattuglia della compagnia della guaglia di finanza di 20 miglia è arrestato un marocchino trovato in possesso di oltre 650 ovuli di hashish per un peso totale di quasi 7 chili. La droga era inserita in bottigliette di plastica nascoste poi nel doppio fondo di un'auto. Fortunatamente è stato l'intervento dei cani antidroga Pacros e Bacon. Il marocchino è stato fermato alla barriera autostradale a bordo di una station wagon con targa spagnola. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Imperia. E proseguono senza sosta le indagini attraverso accertamenti sul caso dei disabili maltrattati nella struttura di Vado Ligure. Gli inquirenti presto potrebbero disporre nuovi interrogatori. Proseguono senza sosta indagini e accertamenti sulla vicenda del centro di assistenza per disabili Vada Sabazia di Vado Ligure che ha portato all'arresto da parte della Guardia di Finanza di 12 persone per le violenze messe in atto sugli ospiti indifesi e riprese dalle telecamere nascoste dalle fiamme gialle. Nei prossimi giorni il PM Giovanni Battista Ferro dovrebbe interrogare Luis Fernando Arevalo, l'equadoriano definito aggressivo e violento dagli investigatori che aveva preso di mira in modo particolare quattro ospiti del centro gestito da una cooperativa. Nel primo interrogatorio Arevalo si era avvalso della facoltà di non rispondere mentre ora quanto sembra avrebbe deciso di parlare. Intanto gli uomini della Guardia di Finanza hanno sequestrato gli atti relativi alla convenzione stipulata con l'ASL e li stanno ora esaminando con attenzione. Dopo l'intervento della magistratura che ha sequestrato due impianti della terreno power di Vado Ligure, ora la Regione ha avviato un progetto di sorveglianza ambientale in collaborazione con l'Istituto Tumori di San Martino, in particolare in un altro servizio. La Regione Liguria in collaborazione con San Martino Ist ha avvalato un progetto di sorveglianza ambientale e sanitaria fra le popolazioni di Savona, Vado Ligure e Quigliano e nelle aree limitrofe potenzialmente interessate dall'impatto delle emissioni diffuse in atmosfera dalla centrale Tirreno Power di Vado Ligure. L'iniziativa è stata adottata dagli assessori regionali dell'ambiente e alla salute dopo l'intervento della magistratura savonese che ha sequestrato due impianti della centrale alimentati a carbone, indicandoli quali responsabili di danni alla salute di lavoratori e cittadini. Obiettivo del progetto della Regione è quello di avviare un'attività di sorveglianza ambientale in grado di rilevare effetti sullo stato di salute delle persone e valutarne l'associazione con specifiche condizioni di inquinamento atmosferico. L'area interessata include 12 comuni identificati sulla base dei modelli di ricaduta delle emissioni elaborati dall'ARPAL, l'Agenzia regionale per l'ambiente. Sotto osservazione non solo la Tirreno Power ma anche le emissioni inquinanti causate da traffico, impianti di riscaldamento e altre attività produttive. La prevenzione dei delitti ai danni di persone anziane è stata al centro di un dibattito tenuto dai carabinieri della stazione di Badalucco. L'incontro si è svolto nella parrocchia del paese della Valle Argentina e rientra in una serie di iniziative che i carabinieri la stanno portando avanti da tempo in favore della prevenzione di furti e truffe a danni di anziani. Lo scorso 7 febbraio è stata inaugurata ufficialmente la nascita del Movimento Civico Fare Bene. Alessandro Tassare Imperiese, fondatore del Movimento, per non interferire con la campagna elettorale delle amministrative delle europee, ha fatto sapere che le iniziative del Movimento prenderanno il via dopo il 25 maggio. Il Movimento Civico non schiera candidati in queste tornate elettorali e si propone di elaborare proposte utili per il territorio da sottoporre a cittadini e politici. Chi vuole aderire al Movimento può fare riferimento al sito farebene.it. Una chiesa affollata come mai ed una grande commozione hanno caratterizzato la celebrazione della Messa di Pasqua nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista nella frazione Peagna di Ceriale. Si è trattato infatti dell'ultima messa celebrata da Monsignor Fiorenzo Gerini, quale parroco di Peagna. Monsignor Gerini è stato collocato a riposo dal Vescovo dopo 60 anni ininterrotti di guida pastorale. Domenica prossima farà il suo ingresso il nuovo parroco Don Cosimo 40, 53 anni, sacerdote dal 1988, già missionario ed ancora prima alla guida della comunità cristiana di Cisano sul Neva e di Santa Maria Maggiore in Castelvecchio ad Imperia. Facciamo una breve pausa, ci sentiamo tra poco. E si è alzato oggi il sipario sulla non edizione del video festival della città di Imperia. L'evento si è aperto nel ricordo di Claudio Giorgio Fava, giornalista e critico cinematografico morto ieri a Genova all'ottato di 83 anni. A dare il via al video festival è stata la presentazione del libro Giba e Lele di Marco Frassinelli e Carlo Grisieri, ospitata nella sala del Museo dell'Olivo della Carli. Le proiezioni sono invece in programma all'auditorium della Camera di Commercio. Vediamo servizio. Fiorinzo Runco, allora ci siamo, video festival avviato anche quest'anno, non edizione, già un primo appuntamento dedicato alla presentazione di un volume su Giba e Lele, Giba e Lele Luzzati, dei cartonisti importanti e non solo, domani invece mondo della comunicazione al centro. domani abbiamo una conferenza stampa con la dottoressa psicologa Erika Buonavera e l'autore Elio Berti, sarà una conferenza sulla comunicazione, infatti il titolo comunicarsi per comunicare, quindi anche questo un filone che il video festival chiaramente deve perseguire e portare all'attenzione del pubblico. Un evento collaterale alle 10.30? Un evento collaterale dedicato per lo più alle scuole, come ormai nella consuetudine del non solo cinema, al... E quindi non conferenza stampa, ma conferenza aperta a tutti. Conferenza assolutamente aperta a tutti e ospitata domani nella sala conferenza del Museo dell'Olivo della Fratelli Carli. Nella sala del Museo dell'Olivo che stamattina ha ospitato invece la presentazione di Giba e Lele, di Marco Frassinelli e Carlo Griseri. Quindi abbiamo cominciato con due autori, fra l'altro Liguri, che hanno parlato di altri due Liguri importanti, giusto o no? Certamente. Come dicevo prima, noi come video festival dobbiamo dare ampio spazio a tutte quelle che sono un po' le tematiche che possono comunque legare al cinema, non soltanto alla televisione, comunque alla comunicazione in generale. Video festival si è, come dire, persegue questo obiettivo, quindi era giusto iniziare e dare spazio ad altre due personalità locali, come appunto Frassinelli e Griseri. E Griseri. Le proiezioni invece al pomeriggio all'auditorio della Camera di Commercio? Il solito cliché, video festival Imperia, come tutti gli anni, dalle ore 15.30 alle 18.30, al primo blocco di proiezioni del concorso ufficiale pomeridiano, mentre invece poi la sera, al secondo blocco, dalle 20.30 alle 23.00. Invece questa sera, 21.30 su Imperia TV, il primo special dedicato a video festival Città d'Imperia, non edizione. Ospiti saranno appunto Marco Frassinelli e Carlo Griseri con il loro volume Giba e Lele. E si è conclusa con successo a Cervo la rassegna di concerti, docenti e allievi di musica da camera nell'ambito del Festival di Pasqua. Soddisfazione è stata espressa dal direttore organizzativo Walter Norsi e dal musicista Marco Norsi. Vediamo. Walter Norsi, allora facciamo un bilancio su questo settimo Festival di Pasqua, Masterclass di musica da camera. Come è andato? Devo dire assolutamente positivo il bilancio, perché in effetti abbiamo avuto un riscontro incredibile di pubblico, soprattutto che ha apprezzato tantissimo. Tra l'altro i nostri concerti molto lunghi, perché duravano due ore, due ore e mezza, con un'attenzione incredibile. E di fatto il pubblico è quello che ci ha dato la forza e la spinta più forte. Voglio assolutamente ringraziare, perché 30 allievi che arrivano da tutto il mondo per noi è un risultato importantissimo, maestri anche che arrivano da tutto il mondo in tutte le loro esperienze in giro, in giro per il mondo, maestri di levatura veramente internazionale. Primo da ricordare assolutamente è il maestro Roberto Isoglio, che è la mente pensante di questa manifestazione. Tra l'altro è il presidente dell'Associazione Mozart Italia per la sede di Torino e nel direttivo della Mozart italiana. E dei maestri voglio assolutamente ricordare, in primissima battuta, il maestro Alessandro Serra, il primo contrabbasso della scala, una persona di una sensibilità, di una disponibilità incredibili. Il maestro Giovanni Ricciardi, genovese, è una persona veramente di un'intensità e di una profondità e di un'umanità. Voglio citare il fatto, ad esempio, si è messo in gioco anche con dei bambini di sette anni a farli suonare in un pezzo meraviglioso che il pubblico ha apprezzato tantissimo. Non ultimo, ovviamente, è il fatto che lui suona per l'ONU, per la FAO, quindi ha una conoscenza professionale a livello mondiale, direi proprio. Quindi anche non soltanto concerti per il piacere del pubblico, ma anche sicuramente per accrescere l'esperienza, far avvicinare anche giovani alla musica. Marco Norzi, come è andata dall'altra parte, cioè sul palco, dovendo affrontare anche un po' il timore del pubblico? Sul palco è andata molto bene. Devo dire che, nonostante il pochissimo tempo per mettere su i concerti, c'è stata una grande intesa con i docenti. Io ho avuto la possibilità di esibirmi con il maestro Bacchetti, pianista eccezionale, e ho avuto anche la possibilità di suonare un quintetto incredibile di Schubert con il maestro Serra al contrabbasso, Ricciardi al violoncello, Manuela Matisse alla viola e Roberto Isoglio al pianoforte, con cui suonano già da tanto tempo. È stato incredibile appunto il clima che si è creato di estrema collaborazione e il pubblico ha assolutamente accolto con grande energia l'entusiasmo che c'era sul palco. Appuntamento a questo punto all'anno prossimo? Assolutamente sì, già con il maestro Isoglio, che è il direttore artistico, lo ripeto, stiamo già lavorando perché ovviamente abbiamo capito che c'è tanto da lavorare ma i risultati sono sicuramente molto importanti e quindi questo ci fa molto piacere. L'ultimo ringraziamento è per la scuola elementare di Cervo che ci ha ospitato nelle nostre lezioni e è stato un utilizzo veramente fondamentale per noi. Seguiamo ora i consigli dell'autostrada dei Fiori, poi vedremo insieme il quadro meteo. E come previsto dalla Carta dei Servizi, in occasione delle festività pasquali e quest'anno in concomitanza anche con il ponte del 25 aprile, i cantieri sull'autostrada dei Fiori, quelli programmati nel tratto Savona a confine di Stato, saranno sospesi da giovedì 17 a domenica 27 aprile compresi. Il meteo è elaborato come sempre da ARPA al meteo Liguria. Vediamo le previsioni di domani, mercoledì 23 aprile. Il tempo sarà in prevalenza stabile, con cielo poco o irregolarmente nuvoloso per addensamenti nei bassi strati. Possibili rare piovaschi in corrispondenza degli addensamenti più consistenti, in particolare sui rilevi. Umidità su valori medio-alti, venti deboli da nord-ovest, in rotazione da ovest-sud-ovest e locale rinforzo fino a moderati. Il mare in ulteriore calo, fino a poco mosso, localmente mosso, allevante in serata. Dopodomani, giovedì 24 aprile, ancora una giornata con tempo stabile, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Possibili locali addensamenti sui rilievi. Umidità su valori medio-alti, venti deboli, in prevalenza regime di brezza, il mare sarà poco mosso o localmente mosso. Bene è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento alle prossime edizioni. A tutti voi una buona serata. Grazie.